contro l'obbligo del Green Pass. Cresce il numero dei contagi nel Vallo di Diano, nessun caso fortunatamente con sintomi gravi. Dopo il cluster partito da una festa religiosa che ha portato tra Montesano e Sassano a 20 positivi, c'è ora il caso di un matrimonio di Sassano, festeggiato nell'area Sele Tanagro. I primi a scoprire di essere positivi al Covid sono stati proprio gli sposi, che prima di partire per la luna di miele hanno fatto il tampone per una maggiore sicurezza pur essendo vaccinati. Quando hanno saputo di avere il Covid hanno avvisato amici e parenti presenti alla cerimonia e così partita subito la catena dei controlli. Dai tamponi effettuati sugli invitati sono emersi al momento solo altri due casi di contagio, quindi in totale sarebbero quattro. Sarà stata la cura nell'organizzazione della cerimonia da parte della struttura e anche l'alta percentuale di vaccinati, il numero dei contagi è rimasto molto contenuto e anche i pochi positivi stanno comunque bene. Quindi il vaccino serve, come dicono gli esperti, a scongiurare l'eventualità che la malattia da Covid degenere in forme gravi che poi è uno degli aspetti che maggiormente interessa. Intanto emergono un paio di positivi anche a Pertosa. Nostro malgrado, scrivono dall'amministrazione comunale, vi comunichiamo che si registrano nel nostro comune due casi entrambi appartenenti allo stesso nucleo familiare. Nell'augurare una prontissima guarigione ai soggetti coinvolti, ci permettiamo, concludono, di invitare coloro i quali ancora non l'avessero fatto a vaccinarsi in ossegue ai principi basilari di senso civico e responsabilità verso se stessi e gli altri.